Cambiano a poco a poco volto le scuole di Librino. Dopo il salto di qualità risalente a quattro anni fa con l'avvio dei corsi di scuola secondaria, l'utenza si è allargata e proviene anche fuori dal popoloso e complesso quartiere satellite. Un caso evidente è quello dell'Istituto Musco di Viale da Verrazzano, attualmente composto da 1200 studenti, scuola che raccoglie sempre più iscrizioni di frequenza per il liceo musicale, secondo in città. In arrivo dunque ragazzi iscritti da altri quartieri e da altri paesi etnei in barba e luoghi comuni sull'insicurezza dell'area di Librino. Sì sì, fino a quattro anni fa eravamo solo scuola di base, arriviamo alla terza media e quindi diciamo che il 99% degli utenti erano ragazzini residenti Librino, Zia Lisa, San Giorgio, insomma tutti i quartieri chiaramente afferenti a quest'area. Qualcuno veniva anche da altre zone ma erano situazioni sporadiche. Con l'avvio del superiore devo dire che invece la situazione ha cominciato a cambiare, noi siamo ben contenti perché il superiore sia il nostro come anche quello del collega della Pestalozza.